Con l'autore Antonio Nobili per parlare dello spettacolo Dio arriverà all'alba, Antonio ben trovato. Buongiorno, buongiorno a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Presentiamo questo lavoro, raccontiamolo. Sì, questo lavoro nasce da una profonda attività di ricerca che io svolgo da tempo su quelli che sono i gusti contemporanei della platea e da una ventina d'anni si è sviluppato un gusto verso quelle che sono le vite degli altri, più che sviluppato si è riacceso. Da ciò il mio orientamento verso la scrittura è i testi biografici, ai quali cerco sempre di fondere quella che è la mia caratteristica di scrittura, cioè la poetica. Da qui le biografie piungaretti di Oscar Wilde fino ad arrivare quest'anno ad Alda Merì. Un po' per un motivo editoriale in quanto la cosa mi è stata chiesta, un po' per una passione personale che io ho sviluppato verso questo personaggio negli anni. Nel decennale quindi trovo l'occasione di mettere a frutto questa passione che ho, questo incontro della mia ricerca in questo testo che poi arriverà all'alba. Un personaggio molto amato per quanto riguarda cinema e teatro. Quali sono gli aspetti di questa artista che apprezzi maggiormente? Guarda, ti dirò, inizialmente mi sono un po' scontrato, poiché io vengo da un classicismo che prevede il verso in endegasillabo, la passione per la parola arcaica. Alda Merì invece era estremamente moderna, estremamente contemporanea, estremamente graffiante in quella che è stata tutta la sua produzione artistica, fino a farmi innamorare di questo nuovo genere che all'inizio per me forse non era nemmeno troppo poesia. Invece poi quando sono entrato nei vari significati che ogni parola aveva mi sono perduto in questo amore nato verso una figura che viaggia attraverso le varie forme d'arte, un personaggio televisivo importantissimo negli anni grazie a Maurizio Costanzo e a Maurizio Costanzo Show, una scrittrice e saggista altrettanto importante, fino a poi la politessa che tutti conosciamo che oggi è la più cercata del web e la più venduta delle librerie. Antonio, com'è strutturato lo spettacolo? Lo spettacolo è il racconto da me immaginato della vita di Alda Merì nell'arco di quelli che sono gli ultimi dieci anni. Una vita vissuta all'interno di una casa popolare malmessa, con la muffa sulle pareti, le crepe sul soffitto. Una vita molto semplice, vissuta fumando sigarette, bevendo Coca-Cola. Una vita spartana che è più vicina a quella di Bukowski, certo che è quella di alcuni poeti che possiamo immaginare. Questa vita è quella che viene raccontata sul palcoscenico, in quanto frutto di quella ricerca che dicevo prima c'è soprattutto la scoperta che spesso la poesia non vive in ambienti elitari, ma vive in condizioni di povertà, in condizioni umili, in condizioni che potremmo definire, tra virgolette, di nudità. In quella nudità di questa poetessa noi entreremo con lo spettacolo, non è che sia la possibilità di vederlo a Roma, dove sarà dal 20 al 24, dal teatro 2. Come hai affrontato la questione del portare la poesia in scena? Ho portato la poesia in scena facendo vedere al pubblico, come ti dicevo, che vive nelle piccole cose. Spesso noi ignoriamo la grande poesia che vive nei piccoli gesti, nelle piccole azioni. Ad esempio c'è tantissima poesia nel ricordare, nel mio caso, il profumo di Nelson che avevano le mani di mia nonna, o quel leggero trastagliato dovuto al continuo lavare dei piatti. Ecco, in queste piccole cose noi scopriremo che c'è spesso una grande poesia quando vengono rievocate con le parole giuste, queste poi stanno alla base. Come è stato il lavoro con attori ed attrici? Abbiamo fatto un lavoro lungo di lettura a tavolino, un lavoro che oggi stesso il teatro non si può permettere di fare, visto i tempi di produzione in cui in 15-20 giorni devi allestire una messa in scena. Noi invece ci siamo potuti soffermare su quella che è l'analisi dei versi della poetessa, su quella che è stata la sua vita, vedere video, leggere qualcosa di diverso dal copione. Tutti gli attori sono entrati quindi in una condizione che poi ha avuto un grande vantaggio in quella che era l'interpretazione di scena. Ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? www.teatrosenzatempo.com.com www.teatrosenzempo.com www.teatrosenzempo.com www.teatrosenzempo.com